A Gatkoffman mi ha detto che vorrebbe trasferirsi in una scuola di perteria. È solamente per un anno, ma non è... Vada a sedere al suo posto! Non sono il suo cane. Lei è un imbecile. Si farà espellere dalla scuola, finirà in strada. Gli studenti che vanno male a scuola accumulano brutti voti, umiliazioni, dunque si credono idioti. Come potrò farcela? Lavorando tanto di più. Il professore cambia scuola. Questa sera alle 21.20, Rai 3.